Oggi è una di quelle giornate che ho poco tempo per allenarmi ma non voglio assolutamente saltare l'allenamento. Quindi ho pensato perché non proporre a tutti questo workout veloce ma di alta intensità. Il workout che vi propongo è basato su un metodo di resistenza chiamato EMOM. In sintesi è un lavoro di resistenza che consiste nel fare tot ripetizioni ogni minuto per un tempo limite che imposteremo noi. Faremo 4 esercizi dalla durata di 10 minuti per esercizio. Io oggi ho fatto un workout da 10 trazioni per 10 minuti, 20 push up per 10 minuti, 3 muscle up per 10 minuti, 15 deep per 10 minuti. Non avete tanto tempo per allenarvi? Niente scuse, provate questo metodo.